Benvenuti nella nuova contro rassegna stampa delle notizie meno diffuse in Italia dai media euro-atlantisti. Iniziamo da quella che viene definita da fonti anglo-americane come Bloomberg, una minaccia di Riyadh dell'Arabia Saudita del principe amico di Renzi, per esempio, Bin Salman, al G7 in cui c'è dentro sì l'Italia. G7 è definito un gruppo dei grandi, in realtà, dell'Occidente, sostanzialmente degli alleati americani e degli stessi Stati Uniti nella sostanza. Questa minaccia, quella che viene definita minaccia, ripeto, da Bloomberg soprattutto, è relativa alla minaccia a sua volta, questa vera, di confiscare un'idea, quantomeno di confiscare dalla parte occidentale, dalla parte più allineata dell'Occidente a questa elita americana al governo oggi, quella, tra virgolette, di Biden, i beni russi, beni pubblici e privati congelati nell'Occidente, nei paesi del G7, in questo caso ai cittadini russi e allo Stato, la banca centrale russa. E quindi quale sarebbe la risposta di Riyadh a tutto questo? Se venisse approvato dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dall'Occidente, dal cuore dell'Occidente, quello di svendere, dare via, scaricare tutto il debito pubblico dei paesi dell'Unione Europea, forse anche dell'America, in pancia alle casse della stessa Arabia Saudita del paese medio orientale, potenza regionale, sempre meno alleata, sempre meno amica degli Stati Uniti d'America, dopo quello che è successo negli anni 70 e quello che sappiamo, la crisi del Golfo, il petrodollaro, tutte cose da ricollegare. Nell'attualità, nella geopolitica, tutto è ricollegabile ovviamente. L'Occidente, dicono fonti saudite a Bloomberg, deve continuare a mantenere le norme, rispettare le norme del diritto internazionale, anche se vediamo, dicono i sauditi da Riyadh, questo viene un po' meno negli ultimi anni. Ricordiamo che i paesi del G7 hanno dentro di sé confiscati, congelati, almeno ad oggi, circa 300 miliardi di dollari di patrimonio russo, pubblico e privato. Il Ministero delle Finanze Saudita, in un comunicato qualche settimana fa, aveva detto di rapporti nella politica internazionale importantissimi per noi, per noi sauditi, rapporti che si basano, si devono basare sul rispetto reciproco per cercare stabilità globale nel sistema pensionistico, nel sistema finanziario, nel sistema di debito internazionale delle riserve in valuta, nonché auree. L'Occidente deve capire, dice il Ministero e il Ministro delle Finanze di Riyadh, l'Occidente deve assolutamente capire che tutto ha un limite e la confisca o furto che dir si voglia, secondo la prospettiva di Mosca, e non solo di Mosca, di questi patrimoni russi, di questi beni russi congelati oggi, sarebbe un passo terribile per la stabilità economico-finanziaria mondiale. Dietro a queste parole del Ministero delle Finanze di Riyadh, secondo diversi analisti come occidentali, ovviamente, come l'amministratore di Bit River, un economista, un certo Andrei Loboda, ci potrebbe essere dell'altro dietro. L'Arabia Saudita ha dentro di sé parte del debito pubblico americano, uno dei più grandi, uno dei dieci più grandi detentori di credito verso gli Stati Uniti, quindi. La sua totale completa riserva di valuta estera sta a circa 455,2 miliardi di dollari, per quanto riguarda l'oro 323 tonnellate. Titoli di Stato americano, debito americano, a circa 135, 136 miliardi di dollari. Non si sa bene quanti obbligazioni dell'Unione Europea, a titoli di Stato dell'Unione Europea, debito UE, abbia Riyadh precisamente. Ma sappiamo che tutti i paesi del Golfo detengono circa 15,1 miliardi di dollari di debito di paesi membri dei 27, o comunque dell'Eurozona, non dei 27, scusate, credo 18, siano 18. La Banca Centrale Europea, la BCE di Francoforte, ha delle riserve per circa 69 miliardi di euro. E quindi i sauditi automaticamente non hanno una grande quota, quindi non sono un pericolo così grande per una possibile caduta dell'Eurozona, più in un scenario più terribile. Però, come dicono alcuni analisti, può rappresentare la contromossa saudita un precedente, quindi scatenare una reazione a catena verso paesi come per esempio la Cina, che renderebbero più difficile la situazione finanziaria dell'Unione Europea, soprattutto dell'Eurozona. Il debito in mani straniere in Unione Europea, la Francia il 50% del suo debito circa in mani, quindi per esempio i paesi medio orientali, l'Italia 28, Stati Uniti 30, Germania 45, per citare degli esempi più importanti, più vicini anche a voi. Riyadh non appoggia quindi la confisca, furto e beni di altre nazioni come quelli russi in Unione Europea e in Nord America. L'Arabia Saudita il primo gennaio scorso è entrata nel gruppo BRICS+, con Cina e Russia a Capitan Arl, ovviamente. Riyadh ha respinto ogni e ha sospeso, ritirato ogni accordo all'inizio degli anni 70 in relazione al petrodollaro, quindi al commercio dell'oro nero, saudita in valuta a stelle strisce. L'Arabia Saudita è il più importante esportatore di petrolio al mondo, praticamente il più importante nel cartello dell'OPA e così viene definito dall'articolo. Ringrazio Carlo per il contributo mensile a questa controinformazione, quindi complementare a quella a cui siete abituati ai principati media, italiani, NAF, ultratalantisti, europeisti, eccetera. Addestramento, esercitazione militare delle marine congiunta tra Russia e Cina, operazioni per cercare di fermare delle potenziali minacce di sottomarini statunitensi, sottomarini occidentali. Qui il vero oppositore, avversario, minaccia, si chiama occidente, implicitamente per implicito. La marina militare cinese insieme alla marina, la flotta del Oceano Pacifico Russia si stanno esercitando in questi giorni fino a domani, mercoledì, sono partite le navi, tutte le imbarcazioni sottomarini dalla città cinese di Changchang. I russi hanno schierato due corvette, i cinesi un bombardiere, una fregata e una nave da trasporto rifornimenti, oltre che ovviamente c'è la difesa aerea, gli elicotteri e tutto il resto. Boicottaggio dalla parte russa dei media pubblici, privati, ma anche delle piattaforme in rete di streaming, cioè di diretta, parliamo in italiano e non in inglese per favore in Italia. Ci sarà quindi un seguito dalla parte mediatica russa, di Mosca e dintorni per quanto riguarda le Olimpiadi estive di Parigi in Francia. Televisioni, canali, media sociali non seguiranno l'evento. 36 sportivi russi in totale hanno ricevuto il permesso e quindi l'invito a partecipare alle Olimpiadi senza gli emblemi colori nazionali russi, 20 dei quali hanno immediatamente respinto l'invito perché assolutamente senza dignità. Contrario, secondo la prospettiva di Mosca, ma anche, secondo molti altri, allo spirito olimpico de Kupertane e tutto il resto. WK, videocontact e il Facebook russo, non seguirà le Olimpiadi. Da 40 anni, da ben 40 anni, la prima volta che un evento simile sia poi di fatto boicottato dalla Federazione Russa, da Mosca, parliamo di Mosca. Infatti nel 1984, al tempo dell'Unione Sovietica, le Olimpiadi di Los Angeles, in America sempre estive, come quelle di Francia oggi, a Parigi, sono state a quel tempo boicottate dal punto di vista mediatico per l'isteria antisovietica, lo sciovinismo statunitense, secondo quanto denunciavano le autorità locali a quel tempo. La maggioranza dei commentatori tedeschi, comunque in lingua tedesca, in rete, appoggiava il viaggio alla missione di pace, beca e missio di Orban Victor, primo ministro ungherese, in Ucraina, in Russia, in Cina, in Uzbekistan, negli Stati Uniti d'America e YouTube, forse YouTube ha bloccato i commenti o sospesi o impossibilitato la risposta dei commenti principali temporaneamente. Build ha intervistato Orban l'altro giorno e sotto l'intervista su YouTube c'è la sezione commenti come sotto ad ogni video, come anche questo. E non è chiaro come scrive Mondine, il giornale Conservatore Maggiaro, se sia stata la Build, il giornale tedesco a censurare o sia stata la piattaforma video più famosa al mondo in rete. Però un comunicato della piattaforma Google Alphabet ha detto che potrebbe succedere, succede in questi casi, che spegniamo i commenti, la sezione commenti la chiudiamo, per difendere poi le società, le comunità. In che senso? Quindi non alimentare il sostegno alla linea di Orban, più pacifista o pacifinta, che dirsi voglia, secondo i punti di vista, in relazione al conflitto ucraino. Soprattutto quindi contro la linea principale, chiamata mainstream, allineata all'interno dell'Anafo, Nato, scusate, chiamiamola Nato, anzi, gioco di parole. La Sakharov, portavoce misteri degli esteri che vedete dal Cremlino. La promessa della Nato, dell'ultimo congresso, consiglio, incontro a Washington per il 75esimo anniversario della fondazione dell'Alleanza di Stoltenberg e poi arriverà Rutte, la promessa di rendere il cammino di Kiev per aderire alla Nato irreversibile, non porta l'Ucraina stessa, dice la Sakharov, lo stesso paese in guerra nell'Alleanza e quindi nella sicurezza, nella difesa comune, ma verso il precipizio. Questo articolo voglio metterlo in questa contro rassegna stampa per rispondere a chi all'interno dei medi allineati principali italiani, in televisione, in telegiornali, parla come Crosetto, ministro italiano, di non lasciare l'Ucraina da sola, sostenerla militarmente a oltranza, anzi sempre di più, per difendere il futuro dell'Ucraina. Quindi questa è una prospettiva opposta che viene sicuramente o snobbata o nascosta in Italia dai medi principali. Quindi, dice la Sakharov, non stanno giocando gli occidentali, la Nato, i più allineati, con l'Ucraina, ma con quello che rimane dell'Ucraina, un paese già tramortito, devastato dalla guerra del post Euromaidan colpo di Stato americano, i 5 miliardi spesi investiti dalla Nuland, la stessa che mandava a quel paese l'UE. La Russia poi accusa sempre per bocca di Maria Sakharova gli Stati Uniti d'America di finanziare dei tentativi di uccisione, di attentati contro il presidente russo Vladimir Putin. Sakharova ha commentato quindi le parole che ho raccontato avanti ieri di Kirill Budanov, il capo delle spie militari, sostanzialmente dei servizi sereti militari ucraini della GUR e della GUR. Dice la Sakharova, i pens, cioè i soldi, i dollari americani, senza questi non ci sarebbero l'attività losche della GUR né della SBU dei servizi di sicurezza interni SBU, ucraini sempre. Neutralità chiede polemicamente Orosiria il portale filo russo in ungherese. La Svizzera apre in Svizzera un ufficio ufficiale, quindi una sede della Nato. Dopo Tokyo, in Giappone, la Nato punta anche al paese neutrale storicamente a livello militare tra le Alpi. A Ginevra, nella città di Ginevra, viene fuori da un accordo firmato da Franz Perez, uno dei capi dei vertici ministeri degli esteri di Berna, e John Swartz, chi è uno dei direttori dei vertici della Nato che si occupa di Europa. Un ufficio che segue quello poi creato, adibito, a Becci, cioè a Vienna, in Austria, altro paese che per costituzione dovrebbe essere neutrale rispetto alla Nato, rispetto a altre alleanze militari mondiali. La Svizzera ha appoggiato gran parte delle sanzioni antirusse dell'Unione Europea Occidentale. Ricordiamolo, la Russia per questo motivo, più e più volte, ha sottolineato il fatto che Berna avrebbe da molto tempo perso il suo status di neutralità militare e quindi di possibile teatro per delle trattative di pace, incessate il fuoco per il conflitto ucraino, ad esempio. Orbán ha esortato il Presidente del Consiglio Europeo, Jean-Michel, belga popolare, di ritrovare come Unione Europea, uno dei canali diplomatici trattativa delle relazioni con la Russia. Lo riporta sempre la Bild, nella stessa intervista di prima al Primo Ministro ungherese. Una lettera del Primo Ministro Fides per esortare l'Unione Europea a trovare dei canali ancora più grandi con la Cina, con Pechino, diplomatici e poi avviare una specie di offensiva politica dal punto di vista relativa al cosiddetto sud del mondo. Un'offensiva non per attaccare ma per recuperare, dice Orbán, il rispetto che abbiamo perso agli occhi di questi paesi del sud del mondo per il nostro punto di vista aggressivo nella guerra in Ucraina, non nostro come Ungheria, come governo ungherese, ma della parte allineata soprattutto in Unione Europea e in Nord America e nella Nato quindi. Una facciata e mezza di foglio A4 di lettere inviata da Orbán a Shamichel in cui il Primo Ministro di Budapest ha sottolineato il fatto che lui prevede che nel prossimo futuro i conflitti medio orientale, ma anche e soprattutto quello ucraino, più importante per noi in Europa centrale soprattutto, aumenteranno l'intensità radicalmente e quindi maggior rischio anche per i paesi dell'Ovest e dell'Unione Europea come l'Italia, secondo poi la visione del Primo Ministro, tanto odiato dai medi allineati italiani. A proposito di Orbán Víctor, uno dei capi di Fidesz del partito di Orbán, se non ero coccishmate il capo della comunicazione interna, ha pubblicato nome, foto di una persona che in rete ha poi creato un sondaggio su Facebook in un gruppo neoliberale europeista su quando Orbán, il Primo Ministro, debba essere ucciso, letteralmente, una cosa incredibile, un certo Krzysztof come potete vedere. Questo è il messaggio pubblicato dal politico fidesz o Cishmate. In questo che vedete a sinistra è il sondaggio fatto partire su questo gruppo Facebook Ungheria. Facebook che è comandato in Ungheria dalla numero 2 del partito popolare Tiso, in Ungheria, dell'opposizione più grande di Polo Scopeter, Modior Peter, cioè quello che se la fa letteralmente addosso dopo quello che è successo in quel locale notturno a Budapest con delle sedicenni. Ve l'ho raccontato, la stampa italiana, silenzio assoluto, quella è l'opposizione urban democratica, europeista dalla parte giusta della storia, ipocrisia, lo stato puro, lo ripeto sempre. Minacce sotto un messaggio Facebook X i commenti poi degli ungheresi al messaggio di cui ho parlato l'altro ieri in relazione all'attentato a Trump del Primo Ministro ungherese. Un commentatore scrive ad esempio Spero tu Orban sappia che il prossimo sei tu, ma la tua pallottola andrà più in basso, quindi commenti shock. Orban aveva scritto, preghiamo per la guarigione, pronta guarigione il presidente Trump, vedete anche su Facebook in lingua ungherese e su X in lingua inglese. Continua la pulizia politica in Polonia, governo europeista di Donald Tusk subentrato agli euroscettici nazionali conservatori di Morawiecki a fine 2023. Continua la pulizia politica, questa volta non contro un prete cattolico, lo so, silenzio ai media principali italiani, arrestato l'ex vice ministro della giustizia Marcin Romanowski del partito, un partito vicino al Pistritto e Giustizia, oggi parlamentare, fino a ieri anzi, della Sejm della Camera Bassa del Parlamento di Varsavia. La stessa Sejm venerdì ha votato a favore di togliere il diritto, o quantomeno sospendere il diritto all'insindagabilità, all'immunità giudiziaria quindi degli stessi parlamentari. Un certo Novak, cioè portavoce della procura di Stato polacca, ha detto che durante le indagini a suo carico sono venute fuori delle prove riguardo 11 capi d'accusa penali, in relazione a appropriazione in debito, comunque spesa del denaro pubblico in maniera illecita, danni all'erario quindi. Morawiecki, l'ex primo ministro, PIS, diritto e giustizia, oggi all'opposizione, su X ha reagito in questo modo una vergogna dei passi politici, un dorito veramente disgustoso, definiamoli così. La fondazione Profeto, dietro c'è questa questione, ha cercato di costruire una nuova sede a Varsavia, nella capitale, per 66 milioni di sloti, decine di migliaia, più di 10 mila euro. L'investimento, la costruzione della stessa struttura palazzo è stata ovviamente sospesa dal governo Tusk europeista proprio per queste indagini. Grazie per aver visto questo video al prossimo Tra Italia e Modio e Rorsag.